Carissime agenzie, buongiorno a tutti e un augurio di buona salute. Stiamo affrontando un periodo veramente epocale e chi come me ha iniziato nel 91 ha visto diverse situazioni e diverse crisi. Pensavamo di aver imparato tutto per affrontarne ma così non è stato. In poco tempo e un paio di mesi le nostre aziende sono andate tutte quante sotto pressione. Noi come gruppo Prima Rete abbiamo cercato la prima cosa di non far sentire sole le nostre agenzie. Abbiamo organizzato diversi servizi a supporto delle agenzie attraverso Smart Working e per noi è stato anche un banco di prova perché sempre abbiamo puntato sulla tecnologia. Oggi ci poniamo quali sono le sfide per le aziende del futuro e penso che saranno molteplici. Sarà necessario strutturare le imprese per essere flessibili verso il mercato. Questa flessibilità è d'obbligo e queste ristrutturazioni dovranno tenere conto che potrebbero esserci anche altre crisi e non trovarci impreparati. Stiamo anche ipotizzando quale sarà il tipo di ripresa che dovremo affrontare e penso che sicuramente avremo più fasi per riprenderci e per tornare nel mercato e dovremo essere molto attenti a ciò che ci aspetta. Per cui io invito tutti quanti a tenere duro, a resistere perché gli agenti di viaggio veramente hanno una grandissima forza e questo permetterà ancora loro di essere nel mercato. Grazie a tutti.